Per gli anziani è emergenza estate. Dunque come abbiamo detto all'inizio del nostro programma questa mattina vogliamo focalizzarci su questa tematica così interessante che interpella evidentemente ciascuno di noi perché gli anziani purtroppo in estate scontano il fatto di vivere purtroppo tante volte in solitudine in alcuni casi estremi ma forse neanche tanto in abbandono totale. E allora noi questa mattina vogliamo avvalerci dell'esperienza e anche delle progettualità della comunità Sant'Egidio per parlare di questo tema che riguarda tutti quanti noi. A tale motivo voglio salutare e ringraziare Giancarlo Penza, coordinatore del servizio anziani di Sant'Egidio per essere collegato con noi. Buongiorno Giancarlo, bentrovato. Grazie, buongiorno a lei e ai suoi telespettatori. Allora Giancarlo partiamo da questa emergenza così come voi l'avete definita presentando anche un rapporto molto interessante che in qualche maniera ci dà una fotografia di quello che è appunto il problema tra virgolette anziani soprattutto nel periodo estivo. Allora lascio a lei la parola per descriverci le risultanze di questo rapporto che devono interrogarci, devono interrogare ciascuno di noi. Sì, ci sono degli elementi molto indicativi e molto significativi in questo rapporto che abbiamo presentato una settimana fa circa. Il primo aspetto è che gli anziani, soprattutto gli anziani ultraottantenni, quindi più fragili, per l'80% circa restano nei luoghi dove vivono, quindi diciamo restano in città. Quando le città sappiamo si svuotano, gli unici abitanti diciamo delle grandi città italiane sono i turisti e gli anziani sostanzialmente. Questo, ecco, tra l'altro aggiungo un elemento importante, gli anziani istituzionalizzati, cioè quelli che vivono nelle residenze, non vanno mai in vacanza. Il 99% degli anziani intervistati, da quelli che vivono appunto negli istituti, restano negli istituti. Spesso negli istituti si vive anche in condizioni molto disagiate perché, per esempio, non tutti hanno l'aria ricondizionata. Faccio un esempio. Questo è un problema enorme. Io direi che quello che emerge dal nostro rapporto è che i nemici degli anziani d'estate sono certamente il caldo, ma anche la solitudine. Guardate, la solitudine non è solo lo svuotamento delle città. È anche il fatto che ormai il 35% delle famiglie italiane è composta soltanto da una persona e più della metà di queste famiglie mononucleari è composta da anziani. Si calcola che fra anziani che vivono soli e anziani che vivono in coppia di anziani, quindi marito e moglie che hanno più di 80 anni, raggiungiamo i 9 milioni. Quindi questo è un grande problema e tanto più nelle grandi città, perché le grandi città, oramai, vedi Milano, oltre il 50% della popolazione vive solo. Quindi questi sono elementi che ci fanno capire quanto sia forte, quanto sia problematica la solitudine degli anziani. Questo è un primo dato che emerge da questo studio. Sì, in effetti volevo sottolineare anche poi quelli che voi avete definito i due cattivi alleati, per certi versi, degli anziani in questo periodo così caldo dell'anno, che è appunto il caldo, è un gioco di parole perdonate, è la solitudine appunto, che purtroppo sono elementi che in qualche maniera, come ha detto anche il presidente della comunità di Sant'Egirio in conferenza stampa, presentando appunto questo rapporto, richiedono una mobilitazione, specialmente in questo periodo dell'anno. E Sant'Egirio, come sempre, risponde presente, possiamo dire così. Assolutamente, questo fa parte, diciamo, di quello che noi abbiamo definito le proposte che Sant'Egirio fa, oltre all'attività che Sant'Egirio fa durante l'estate. Noi abbiamo costruito ormai negli anni un programma di monitoraggio attivo delle condizioni degli anziani, soprattutto degli anziani fragili, durante l'estate, ma non solo, che si chiama Viva gli Anziani. Viva gli Anziani è sostanzialmente una rete di prossimità che noi costruiamo attorno agli anziani, in cui ci sono non solo gli operatori di Sant'Egirio, che operano ovviamente anche durante l'estate, con visite domiciliari e con telefonate, ma abbiamo anche la partecipazione a questo programma di vicini di casa, di negozianti, di tutti quegli operatori o di quei lavoratori che possono essere, diciamo, importanti per la salute degli anziani e per la compagnia, per l'accompagnamento, diciamo, degli anziani nel periodo, appunto, maggiore di solitudine. Pensi che noi con questo programma ormai abbiamo raggiunto più o meno la cifra circa di 20.000 anziani che aiutiamo nelle grandi città italiane, soprattutto a Roma, ma non solo. Però vi faccio dire che l'altro aspetto molto significativo di quello che noi abbiamo detto in questa conferenza stampa è il richiamo a tutta la popolazione, alla società civile, ma anche ai cittadini, di accorgersi dei propri anziani vicini e di fare qualcosa che può essere anche un gesto banale, come controllare la posta, se nella posta si accumula nella cassetta della posta tanta posta, quindi è un segno evidentemente che gli anziani non escono da molto tempo, oppure se si è in fila alla posta o al supermercato e ci sono degli anziani che noi vediamo accanto a noi nella fila, di scambiare le tue parole, cioè di verificare se effettivamente con poche domande, con battute simpatiche, con un rapporto, un senso amichevole, diciamo, di se veramente questi anziani sono soli e hanno bisogno di aiuto. Si può fare, tutti lo possono fare. Sì, in effetti ci sono dei cosiddetti trigger, cioè delle spie che in qualche maniera devono farci, come dire, alzare il livello di attenzione, soprattutto anche grazie a questi piccolissimi accorgimenti che possiamo utilizzare nella vita di tutti i giorni per in qualche maniera interrogarci su quello che succede ai nostri anziani. Mi è piaciuta molto l'espressione che voi avete utilizzato quando avete parlato di rete di protezione, quando si va a coinvolgere un po' diverse, non solo professionalità, ma anche diverse persone nella cura degli anziani, quelli possono essere i farmacisti, i medici, cioè sono tutte quelle categorie che avendo un contatto diretto con gli anziani sanno magari anche di cosa hanno bisogno e dunque in qualche maniera sono anche loro che devono essere più, come dire, incentivati anche per certi versi a custodire gli anziani. Fermo restando che poi la responsabilità è di ciascuno di noi, del nostro prossimo, di chi abbiamo accanto. Mi permetta questa piccola divagazione personale per arrivare anche ad un altro discorso che mi è piaciuto molto e che vorrei approfondire con lei questa mattina riguardo al tema del co-housing, che è una parola che magari i nostri anziani che ci seguono sentiranno come un po' strana, però magari lei Giancarlo ci può aiutare a capire in che cosa consiste e magari provare anche ad esportare, tra virgolette, questo modello in altre città italiane. Sì, il co-housing è una soluzione molto intelligente e diciamo amica degli anziani al problema principale, come dicevamo noi, della solitudine, ma anche alla fragilità fisica o ai problemi economici, perché mette insieme alcune debolezze, ma se le debolezze si condividono paradossalmente queste diventano una forza. Faccio un esempio, un anziano che ha una buona pensione, quindi si può permettere di vivere in maniera molto dignitosa, ma ha una fragilità motoria importante, può, quindi da solo si trova a vivere da solo in una condizione difficile, può accogliere nella sua casa un anziano che magari è stato sfrattato, non ha una pensione bassissima, una pensione sociale, ma nello stesso tempo è molto in gamba, fisicamente si muove bene, è ancora attivo. Questa costruzione di co-housing, di convivenze degli anziani, permette loro anche di evitare di ricorrere agli istituti. Questa è una grande battaglia che la comunità di Sant'Egidio fa, perché noi crediamo che ogni anziano abbia il diritto di vivere fino alla fine dei suoi giorni in un posto che può chiamare casa o che può individuare come una famiglia. Gli istituti, le grandi concentrazioni di anziani non lo sono, quindi si può per un motivo diciamo di salute, andare in ospedale o in un RSA per qualche motivo, ma l'idea di passare la propria vita al termine dei propri giorni in un istituto è una cosa che va sconfitta. Il co-housing è una soluzione estremamente facile, a portata di mano, che può essere utilizzata. Certo, c'è bisogno anche in questo caso comunque di una rete che può essere degli operatori pubblici, ma può essere anche del volontariato, come lei richiamava, questa rete di protezione che si può costruire attorno agli anziani, che può effettivamente essere importante per dare vita a queste convivenze. che, e aggiungo e concludo, sono convivenze che si stabiliscono nelle città, nei quartieri dove si vive, nei condomini, dove c'è la vita normale di tutti. Spesso invece gli istituti, lo sappiamo, sono isolati, sono fuori dalle città, sono difficilmente raggiungibili. Quindi lei vede il vantaggio che si ha anche nel lasciare gli anziani a vivere nel loro ambiente, perché questo aiuta anche la popolazione a diventare più solidale e a costruire attorno a loro una città più amica. Ebbè, insomma, sono argomenti molto, molto interessanti. Speriamo di aver, come dire, fornito qualche spunto di riflessione a chi magari prende le decisioni, magari qualcuno o qualche amministratore, non so, comunale che ci sta seguendo e che magari interessato all'idea può tranquillamente, come dire, approfondire questo tipo di concetti che insieme a lei questa mattina abbiamo voluto comunicare a tutti quanti i nostri amici telespettatori. Giancarlo, io la ringrazio di cuore per essere stato con noi, le auguro un buon rientro, perché lei è a Cipro, se non ho capito male dai contatti. Sì, sono a Cipro per una missione importante con i rifugiati che sono a Cipro. facciamo delle vacanze solidali, diciamo, insieme a loro, però io ovviamente domani tornerò perché domenica c'è la festa dei nonni, la messa e quindi sarò lì anch'io ovviamente. Bene, allora io la ringrazio di cuore e le auguro una buona festa dei nonni a questo punto e magari torneremo a parlare anche di quest'altra progettualità molto interessante di cui lei è sicuramente protagonista. Grazie Giancarlo, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi e un saluto a tutti i vostri telespettatori. Grazie mille, grazie, andiamo in pubblicità. Grazie.